Sensibilizzare i giovani al rispetto della legalità, soprattutto in un mondo sempre più propenso al disconoscimento delle regole. E' questo l'obiettivo del convegno Condotte a rischio nei giovani, che si è svolto questa mattina presso l'Istituto Superiore Tecnico Commerciale Geometri Moretti di Roseto. Un vero e proprio incontro, confronto con gli studenti, che ha visto la presenza di due importanti magistrati del Tribunale di Teramo, Davide Rosati e Laura Colica. Questo progetto parte dall'inizio dell'anno scolastico, è una risposta alla richiesta di legalità da parte dei genitori e da parte degli alunni. E diciamo che traiamo le somme di un questionario che è stato somministrato ai ragazzi, proprio sulle condotte a rischio. Quindi oggi vengono fuori tutti i report e ci siamo fatti aiutare dai magistrati Laura Colica e Davide Rosati, che immediatamente hanno dato la loro disponibilità, perché sono molto attenti alle problematiche che riguardano i ragazzi, soprattutto di questa età. Quindi insomma un progetto che, soprattutto di questi tempi, mira all'educazione al rispetto delle regole. Come ho detto nell'introduzione, ci sono regole che si danno per date. Sono dentro di noi e ogni tanto le tiriamo fuori. Però sono regole che vanno continuamente coltivate e continuamente studiate, continuamente rinforzate. Non possono essere lasciate in un cantuccio del nostro essere, perché non ci aiutano poi a stare bene nella società che ci circonda.